Il problema qual è? Che ci sono dei calciatori che sono sintomatici. Ora sicuramente non avranno nel prossimo futuro un escalation in negativo perché sono giovani e sicuramente avranno questo grosso raffreddore con la febbre anche alta, artralgie, mialgie, insomma le solite cose che dà una FUS syndrome. Solitamente i soggetti giovani con una patologia piccola come quella a carico delle piene respiratorie solitamente riescono a rispondere bene, a rientrare a posto, senza grossi posti. C'è qualcuno che magari pare che stia un pochettino peggio. Il problema qual è? Che questi qua non si potranno allenare e quindi andranno, ammesso che riescano a risultare i doni per la partita del 27, non riusciranno ad allenarsi. Quindi sicuramente forse la Lega ha sbagliato, ma non lo dico da tifoso di Pescara, ha sbagliato perché doveva forse dare qualche altro giorno a disposizione, ci doveva essere una luce di qualche giorno tra la fine della contumacia e l'inizio dell'attività agonistica.